Ciao ragazzi, oggi siamo al mare come vedete, eccoci sulla spiaggia dove vi mostro questo fantastico gioco, una nuova genialata da parte di Bella Mamma, si chiamano Sand & Snow Shapers e sono questi quattro piccoli oggettini di plastica che permettono di realizzare molto facilmente come vedete dal filmato accelerato che ho fatto, delle sfere praticamente perfette su una superficie di sabbia leggermente umida, ma vanno bene per la sabbia ma anche per la neve, ecco quindi sono già curioso di poterlo utilizzare questo inverno, ma tanto mi godo la fine dell'estate, si può utilizzare già da molto piccoli, dai due a tre anni in su, è veramente molto molto semplice, basta poco per prendere la mano e ci vuole pochissima forza, basta veramente farsi guidare dalla formina che è proprio concava, avete visto quattro forme diverse perché ci sono quattro sfere di dimensioni diverse che si possono creare una da 20, una da 30 cm, una da 40, quella gigante da 50 cm, è veramente molto semplice, ci vuole solo un po' di pazienza perché come vedete ci vuole un po' di tempo a creare la cosa, ma si possono fare delle cose spettacolari, in questo video accelerato io vi ho fatto una tartaruga e poi vi ho fatto anche una coccinella, poi ci sono delle altre forme come l'orsetto, il verme eccetera che sono consigliate nella confezione di Sand & Snow Shapers. Cos'altro? Sono fatti in plastica robusta e durevole, quindi state sicuri che vengono garantiti per la sabbia e per la neve, quindi un gioco che dura anche molto negli anni, è stato creato da uno scultore di sabbia professionista e ha vinto in Olanda il premio come migliore invenzione dell'anno. Il prezzo 7,95€ quindi super abbordabile, super semplice per un gioco divertente dove potrete veramente esprimervi alla grande. Io vi lascio al filmato accelerato fino alla coccinella, per i prossimi video come sempre vi consiglio di iscrivervi qua sopra al canale dei giochi per bambini e ragazzi. Alle prossime, ciao ciao, Davide! Ciao! 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 Grazie a tutti.